buona giornata e bentrovati alla rassegna stampa di fanu tv oggi è sabato 11 maggio 2024 abbiamo tante tante notizie per questo weekend dove si preannunciano anche tante novità per quanto riguarda la preparazione dell'assetto ambientale in vista della tappa a fanu del giro d'italia avremo poi tutte le indicazioni del caso dato che ieri si è svolta una conferenza stampa al termine della riunione del comitato della sicurezza che si è svolto in prefettura ma prima anticipiamo il tutto con l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi eccolo qua il santo di oggi è santo ignazio da laconi visse nel diciottesimo secolo era il 1700 laconi laconi un piccolo paesino della sardegna nei pressi del gene argentu frate capucino ignazio si assoggettò ai servizi più umili andava andava alla questa andava a chiedere l'elemosina e ricambiava quanto veniva a lui dato con il calore della parola evangelica e con la sua amicizia fu amato e stimato da tutti e le sue reliquie riposano nella chiesa dei capucini di di cagliari e periodicamente vengono portati in processione lungo tutta la sardegna con grande concorso di popolo che ancora oggi venera con grande intensità grande adesione questo frato umilissimo cappuccino santignazio santignazio da laconi vediamo ora le previsioni del tempo oggi possiamo dire che è una bella giornata tempo stabile sulla regione con solamente qualche addensamento nuvoloso lungo i rilievi le massime sono in aumento le temperature massime la minima 12 21 in media la massima ma con punte che potranno raggiungere anche i 25 gradi i venti sulle coste espireranno da ovest nord ovest nell'introterra da est nord est il mare è leggermente mosso e il sole è sorto alle 5 e 47 e tramonterà alle 20 e 20 si prolungano ancora di più le giornate e allora diamo un'occhiata oggi a partire sulle notizie del giorno a partire dal Corriere Adriatico sulla pagina di Fano ma l'apertura è la stessa l'argomento almeno è lo stesso che viene posto all'attenzione dal resto del Carlino giro d'Italia un calvario della viabilità un calvario per chi dovrà sovraintendere a che tutto funzioni nel migliore di modi ma un calvario anche per gli altri cittadini insomma tutta la città è paralizzata da questo grande evento a cui si vuol dare il massimo risalto possibile ma soprattutto si vuole evitare che si verifichino incidenti e allora ci sono provvedimenti che verranno presi fin dal giorno prima ovvero da giovedì 15 maggio la tappa sappiamo che si svolge il 16 maggio e i corridori arriveranno a Fano intorno alle ore 16 quindi nel pomeriggio cercheremo di contenere i disagi hanno dichiarato ieri la comandante della polizia locale a Narita Montagna e la responsabile dell'ufficio traffico l'ingegner Ilenia Santini entrambe erano reduci da una riunione del comitato della sicurezza che si è svolto in prefettura a Pesaro ebbene sono state prese tutte le decisioni inerenti la viabilità i parcheggi il traffico in attraversamento tutto quanto serve appunto per dare una buona organizzazione all'arrivo della carovana del giro e vediamo quali sono i maggiori le maggiori decisioni che sono state prese l'intero percorso sarà interdetto al traffico a partire dalle 13 di giovedì giorno della tappa e fin verso alle 18 con divieto di sosta dalle 8 e 30 del mattino quindi attenzione dalle 8 e 30 del mattino in diversi punti della città non si potrà parcheggiare sono veramente i parcheggi più importanti e incluso quello della caserma e incluso quello del foro boario quindi dovranno dovranno essere completamente vuoti nell'area d'arrivo individuato in viale gramsci e in viale bozzi sosta inimita invece dalle 16 del giorno precedente quindi dal mercoledì prima come all'interno della paolini e nel ricolo viario alle spalle della caserma transito interdetto invece dalle 18 sempre di mercoledì al parcheggio del foro boario sosta preclusa dalle 20 dello stesso giorno nel resto del chilometro e 200 metri conclusivi chiusura alle 5 di giovedì insomma vi consiglio di comprare i giornali oggi perché ci sono veramente tante tante disposizioni che interessano tutti interessano le famiglie interessano i lavoratori interessano le aziende interessa chi deve attraversare fano che deve sapere quale strada deve prendere perché questa volta la tappa di fano non arriva semplicemente sulla nazionale e qui si ferma in realtà fa tutto un percorso molto molto articolato che provenendo da tombaccia sulle nuove arterie compensative realizzate dalla società autostrade giunge nei pressi dell'aeroporto poi va verso chiaruccia e poi si articola su fino alle colline di monte giove ridiscende arriva all'interquartieri di fano e poi in bocca pensate via l'italia nel quartiere del poderino via giustizia via della liscia e poi via nazario sauro ancora viale adriatico fino a viale battisti risale verso porta marina viale cavallotti viale 12 settembre e quindi i viale gramsci dove c'è l'arrivo veramente tutta fano viene viene compresa in questo itinerario che per la prima volta la coinvolge totalmente totalmente perché veramente anche le vie periferiche vedranno i gerini pensate la discesa dall'alto di monte giove verso la rotatoria di via monfalcone è una strada piccolissima una volta era sterrata adesso ovviamente non lo è più ma però insomma è una via molto molto secondaria e beh anche questo fa attrazione al giro d'italia vediamo anche il titolo che appare sul resto del carlino passa il giro una città blindata la mappa per muoversi senza disagi sono oltre 50 gli agenti di polizia locale poi ci sono anche 85 volontari della protezione civile impegnati a presidiare le strade strada difficile anche passare da un punto all'altro della città lì bisogna muoversi a piedi tutt'al più in bicicletta ma tanto e quanto insomma la mobilità sarà veramente ridotta al minimo in quel giorno e anche un pochino il giorno precedente vediamo le altre notizie a fondo pagina sul Corriere Adriatico abbiamo una replica dell'assessore al welfare Dimitri Tinti in ordine alle considerazioni che un esponente del centro-destra Davide Del Vecchio aveva fatto in ordine al centro famiglie di Sant'Orso insomma lamentandosi che era mancata la coprogettazione con le famiglie invece l'assessore replica dicendo che la coprogettazione è in corso e si sta cercando un'intesa un progetto che venga anche apprezzato dalle stesse famiglie che poi devono fare riferimento al centro una bella iniziativa invece ha premiato l'istituto comprensivo Nuti a Fano perché le famiglie hanno indicato al proprio fornitore dell'energia elettrica del gas che in questo caso è ERA ERA fa parte a Pesaro della Multiservizi di Marche Multiservizi che gestisce anche la raccolta dei rifiuti a Fano invece opera semplicemente come tante altre aziende produttrici per la fornitura di energia tipo l'energia elettrica tipo il gas ebbene ha una sua clientela e per un aspetto promozionale ha organizzato un'iniziativa si chiama Digi e Lode ed è la terza mi sembra o la quinta edizione che si svolge quest'anno ebbene le famiglie che hanno poi usufruito dei servizi aggiuntivi che ERA predispone hanno indicato la scuola media Nuti quale destinataria di un contributo importante sono 2.500 euro che dovranno essere utilizzati per acquistare computer, stampanti insomma attrezzi del sistema informatico e quindi una bella notizia per la dirigente Silvia Faggi Grigioni e per i ragazzi che frequentano la scuola e qui in questa fotografia vediamo un momento della premiazione con l'incaricato di ERA Gilberto Tinti che consegna simbolicamente l'assegno alla dirigente scolastica e vediamo ancora polemiche per quanto riguarda le scuole l'ha sollevata il candidato sindaco del centrodestra Luca Serfilippi in ordine ad un provvedimento che limiterà di una classe che insomma eliminerà una classe all'asilo Gallizzi per il prossimo anno ebbene dice Serfilippi quando diventerò sindaco mi impegnerò a evitare che in vista del prossimo anno scolastico la scuola Gallizzi perda una classe e conseguentemente due insegnanti Serfilippi dunque vuole scongiurare l'ipotesi che si sta delineando con la riorganizzazione della scuola dell'infanzia ma che cosa è accaduto? è accaduto che chiuse le iscrizioni sono venuti a mancare i ragazzi e allora l'ufficio scolastico cosa ha fatto? ebbene mancando gli iscritti ha ridotto il numero delle classi da sei ne ha ridotto a cinque come si fa normalmente perché poi le classi si formano in base al numero degli studenti questo è un provvedimento molto usuale hanno detto quelli dell'ufficio però insomma Serfilippi vuole invece ripristinare le sei classi se sarà sindaco e vorrà dire che invece di una classe di venticinque studenti forse ne avrà una di diciotto una di diciassette e gli altri verranno spalmati nelle altre classi questo è un provvedimento che è possibile ugualmente ottenere però insomma tutto dipende dalla organizzazione e dal modo che si vuole praticare per risolvere questo problema e poi abbiamo invece una rimostranza da parte del capogruppo consigliare uscente della Lega Gianluca Ilari per quanto riguarda il passaggio di due yacht in pieno giorno e in pieno nei pressi anzi non in pieno nei pressi del centro storico due grandi yacht che hanno causato problemi al traffico ma hanno causato problemi anche alle aziende perché in occasione del passaggio di queste grandi barche si toglie l'energia elettrica è un provvedimento a cui non si può derogare Enel ha tolto la corrente alla linea di alta tensione l'altro ieri dalle 14.30 per poi riattivarla alle 9 del giorno seguente in via Roma il distacco di corrente appunto è indispensabile questo ovviamente provoca dei disagi a chi risiede o lavora in quella zona e quindi Ilari chiede spiegazioni e cerca ovviamente di evitare i prossimi disagi da parte dell'assessorato al turismo invece un provvedimento che anticipa l'erogazione dei contributi a quelle associazioni che organizzano eventi senza scopo di lucro di interesse turistico contributi per gli eventi minori c'è il bando prima delle elezioni anticipato di 5 mesi l'anno scorso era stato pubblicato nel mese di ottobre quest'anno invece viene pubblicato adesso rispetto alla scadenza di ottobre in gioco ci sono 65 mila euro che verranno erogati in base alle richieste si tratta di due tipi di categorie la categoria A che comprende iniziative eventi progetti pensati e realizzati a beneficio dei singoli quartieri o di aree della città per un importo o per un costo minimo che non dovrà essere inferiore ai 1.500 euro e in questo caso il contributo giunge sino a 3.000 euro poi invece abbiamo eventi ancora più importanti quelli in cui costo e sono quelli della categoria B non è inferiore a 12.000 euro in questo caso il contributo sarà di 8.000 euro ovviamente non sono questi i grandi eventi quelli che sono un po' gli eventi di attrazione del turismo fanese tipo il Festival Jets il Brodetto Passaggi la Fano dei Cesari insomma queste iniziative queste hanno una convenzione a parte ma tutte le altre tutte le iniziative che si svolgono durante l'estate all'Ido nel centro storico in Sassonia potranno beneficiare di questi di questi provvedimenti di questi contributi che fanno parte della strategia del turismo attuata appunto dall'assessorato condotto da Etienne Lucarelli Nettare Rosso migliore bevanda del Cardinale ebbene è un concorso che si è svolto nell'ambito del trionfo del Carnevale a Fossombrone con Nettare Rosso Simone Conti lo candiere del caffè della fortuna ha vinto la singolare gara della miglior bevanda del Cardinale nell'ambito di questa rievocazione storica e vediamo ora invece la campagna elettorale che si svolge a San Lorenzo in campo dove il sindaco Dell'Onti si trova un avversario il sindaco Dell'Onti riprova un terzo mandato è un'avvocata è un'avvocata si chiama Valeria Bartocci e insomma si contrappone si contrappone al sindaco Dell'Onti sarà una bella battaglia Valeria Bartocci avvocatessa laurentina a capo della lista uniti verso il futuro e intanto intanto a San Lorenzo in campo procedono i lavori di lavori pubblici di ristrutturazione in modo particolare delle strade vediamo qui in questo titolo lavori di asfaltatura stradale per 400 mila euro una parte sarà eseguita dall'Enel per i ripristini imposti dal comune per insomma gli scavi che sono stati effettuati tiriamo ancora la pagina e siamo a Senigallia dove vediamo che una delle professioni più bistrattate è quella del cameriere insomma l'abbiamo detto anche ieri il cameriere insomma una professione messa da parte come fosse una delle professioni più umili insomma quelle che fanno quelli che non sanno fare altro in realtà è una professione altamente rispettabile dignitosa che ha una sua professionalità e lo evidenzia con questa testimonianza Alberto Massa direttore di sala del mare in terrazza a Senigallia felice ha detto di fare il cameriere da una vita e il grazie del cliente è come fare gole una soddisfazione che si prova quando un servizio è inappuntabile e cortese e insomma dimostra una grande cordialità e questa è una bella testimonianza vediamo anche quello che è accaduto a Pesaro ieri nella campagna elettorale ebbene ieri Pesaro è stata visitata dalla segretaria nazionale del partito democratico Elie Schlein il Trisdem calato per le europee Schlein troppi no fortissimi ha dichiarato ebbene la segretaria del PD ieri nelle Marche per rilanciare la volata ai candidati sia per quanto riguarda le europee che per quanto riguarda le amministrative però insomma c'è una polemica Elie ha svolto una visita in diverse località delle Marche in diverse località delle Marche però ha escluso Fano è andata a Pesaro andata a Pesaro dove evidentemente Biancani candidato sindaco del partito democratico è di una posizione abbastanza forte per la prossima rielizione a Pesaro a Fano invece il PD deve lottare pari alla pari con il centrodestra e credo che avesse più bisogno di una visita della segretaria nazionale per così pubblicare e rendere noti i dettagli i programmi del partito democratico e accendere gli entusiasmi degli elettori però questo non è avvenuto e allora i giornali si interrogano ma Elis Nobafano è già data per persa il Tour de Libra la terza città delle Marche da dieci anni in mano alla sinistra e beh insomma questo è un interrogativo che lascia un po' perplessa la risposta lascia un po' perplessa insomma perché Elis Lai non è venuta a Fano c'entra forse la segreteria regionale che ha un po' predisposto gli itinerari della segretaria nazionale nelle Marche ebbene è possibile però comunque era presente era presente Cristian Fanesi candidato sindaco di Fano per il partito democratico che è stato presente in piazzale Colinuccio dove a Pesaro è venuto l'incontro con Eli Schlein aprile è freddo ma che più 1,5 gradi nel normale la temperatura media ragionale dai primi 4 mesi dell'anno ha superato i 10 gradi 2,3 in più rispetto al trend storico e ora siamo nei tepori primaverili non dico ancora estivi ma insomma siamo lì lì grande corsa per 450 due giorni di tensione per avere il via libera è l'articolo di apertura della pagina pesarese del Corriere Adriatico due giorni di tensione per avere il via libera si parla della consegna delle liste che sono state che vengono fatte proprio in questo weekend e c'è tutto un programma per quanto riguarda le elezioni vengono consegnate le liste e questo mi dà la possibilità di passare subito al resto del Carlino perché nelle pagine iniziali abbiamo tutte le liste ecco guardate qua tutte le liste che si stanno presentando pesaro le liste l'esercito di 436 candidati in quattro lotano per la poltrona del sindaco le due più grosse coalizioni hanno anche il sostegno delle civiche ecco tutti i nomi e qua ci sono pubblicati tutti i nomi delle liste del partito democratico lista civica biancani sindaco la marcia in più per pesaro una città in comune con enzo belloni biancani sindaco forza pesaro con emila della dola biancani sindaco movimento 5 stelle lista civica il faro alleanza verdi di sinistra e poi pesaro svolta marco lanzi sindaco pesaro giovanni per giovani scusate per marco lanzi fratelli d'italia la lega forza italia noi moderati civici marche e insomma questi sono un po' tutte le liste che si confronteranno in vista delle elezioni dell'8 e 9 giugno prossimo manca ormai poco insomma manca meno di un mese ma in un mese l'appuntamento elettorale e vediamo anche come il resto del carlino considera la visita di Elislein a Pesaro è lì il grazie a Ricci un buon governo durato per dieci anni ci sarà continuità e sicura la segretaria del PD della riconferma del centro-sinistra a Pesaro Scaramucci vola con lei toglieremo il tappo piazza piena anche a Durmino l'università occhio vi privatizzano anche quella quindi bisogna stare attenti per quanto riguarda questo settore della vita urbinata e qua vediamo le fotografie di Piazzale con l'enuncio eccola qua di Pesaro qui invece vediamo Ellie ad Urbino allora vediamo invece la pagina di Fano così come viene evidenziata dal resto del carlino si parla come abbiamo detto di tutti i provvedimenti che vengono assunti vengono assunti a Fano per il giro d'Italia passa il giro una città blindata la mappa per muoversi senza disagi voglio solo evidenziarvi un'ultima notizia che è quella del no alla perdita di una classe alla Gallizzi di cui abbiamo parlato che è stata denunciata dal candidato sindaco del centrodestra Luca Serfilippi e con questo terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento a lunedì prossimo sempre alle 7 grazie per l'ascolto e a risentirci Grazie a tutti Grazie.